Oggi il portale sviluppato da Unione Industriale è un ulteriore passaggio che dimostra che quel comitato di pilotaggio che abbiamo costruito tra enti territoriali e associazioni di categorie produce degli effetti positivi. Il primo è che questo portale permetterà alle aziende di avere un soggetto che può accompagnarle nella predisposizione dei bandi. Per noi è importante e fondamentale non solo promuovere il territorio attraverso la definizione di quelle che sono risorse importanti che arriveranno, ma accompagnarle nella predisposizione dei bandi, far sì che queste predisposizioni siano conformi a quanto richiesto da Invitalia e nelle prossime settimane Invitalia sarà qui presente per accompagnare veramente un processo direi epocale, perché le risorse che sono in gioco sono tante, la prima tranche sono 20 milioni da parte del Ministero, ma anche la quota regionale che si aggira intorno ad altri 20 milioni di euro sono cifre che probabilmente questa provincia tutte insieme non le ha mai viste.